benvenuti a meteo giulianci.it dopo domani mercoledì 22 febbraio sereno su tutto il centro nord ancora più oggi invece al sud per un vortice di bassa pressione che dalla sardegna si sarà spostato sull'orionio ma ecco la mappa del satellite virtuale vedete le nuvole che ricoprono la regione meridionale e le isole maggiori che tempo allora farà dopo domani sereno su quasi tutto il centro nord e piogge invece su tutto il meridione tranne la puglia la campagna qualche nevicata sulla lucania piogge molto forte sull'este e sud della sardegna ma vediamo a questo punto le temperature massime previste per dopo domani in rialzo su quasi tutta l'italia bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buongiorno